Eccoci mister dopo la partita con il Siena, una breve sintesi, un breve pensiero personale. Innanzitutto penso di poter fare i complimenti a tutta la squadra per la reazione che abbiamo avuto visto la partita per il risultato più che altro di settimana scorsa. I ragazzi avevano un bel po' di rabbia addosso per quello che era successo domenica scorsa. L'hanno tirata fuori e l'hanno trasformata sul campo oggi, facendo un'ottima prestazione a mio avviso. Una partita che nascondeva diverse insidie contro una squadra veramente forte. Però i ragazzi oggi hanno dato veramente tutto il cuore e complimenti a loro veramente. Addirittura posso dire di essere un pochino ramarecato per il risultato, visto la prestazione. Come si gestisce una settimana così intensa? Ma ecco il lavoro. Abbiamo iniziato il 12 di luglio, abbiamo una filosofia di gioco e quindi anche di lavoro. Il nostro credo è il lavoro, per cui non è difficile con questi ragazzi perché hanno veramente una gran voglia di lavorare. E ovviamente trovare gli stimoli in una partita del genere è stato anche abbastanza facile. Una brevissima menzione abbiamo già fatta per Niccolò Gucci che non smette per disegnare ormai. Niccolò Gucci io lo vedo tutti i giorni. Lui come tutti gli altri so quanto danno, so quanto hanno la cultura del lavoro. E quando riescono a raccogliere i frutti del lavoro che hanno seminato riescono veramente a dare il meglio. E tutti noi siamo contenti per loro.